Parliamo di fotografia notturna e vi porto un contenuto in cui vi mostro delle immagini realizzate con Canon EOS R quindi una fotocamera non nuovissima ma di cui sono tutto sommato molto contento sto scattando con il mio RF 14-35mm vi porto questo contenuto che è un po' diverso dal solito per farvi vedere delle immagini che ho realizzato una di queste notti in un contesto che ho trovato abbastanza particolare, abbastanza degno di nota e siccome passavo per caso da quelle parti mi sono fermato a realizzare un paio di immagini di cui andremo a parlare nel corso di questo video Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare e anche oggi parliamo di fotografia, in particolare di fotografia notturna ho già realizzato dei contenuti sulla strumentazione di cui vi parlo oggi si tratta infatti di Canon EOS R di cui ho già parlato in un video che vi linko in card e del bellissimo RF 14-35mm, obiettivo che mi piace molto anche se non è per nulla esente da difetti non ultimo un prezzo veramente esorbitante a fronte dei difetti di cui vi parlo in un altro video che pure vi lascio in card se contenuti di questo tipo solleticano il vostro interesse io vi consiglio di cliccare il bottone iscriviti adesso e non perdete l'occasione di attivare anche la campanella perché altrimenti vi perdete le notifiche lasciate anche un like a questo video, il perché lo scoprirete nel corso del medesimo per cui assicuratevi di seguirlo fino alla fine molto bene, eccoci qui all'interno di Photoshop, come potete vedere questo è il teatro dello shooting ovviamente questa è una foto diurna che ho scattato durante la giornata essendomi reso conto che c'era qualche diciamo problemino stradale ora andiamo a fare una bella cosa per prima cosa selezioniamo tutte le immagini e andiamo ad applicare il mio preset per il 14-35mm che come vedete va a rimuovere questa odiosissima vignettatura e va anche a pareggiare un pochettino la distorsione a barilotto che è molto molto pronunciata su questa lente qui ovviamente ho scattato a mano libera durante il giorno che mi ero reso conto di una scena abbastanza inusuale quindi l'ho scattata lì per lì adesso andiamo a sistemarla un attimino vediamo se riusciamo a tirar fuori qualcosa di decoroso ok non è bella, non sarà mai bella però è già meglio andiamo a lavorare un pochino sul color mixer perché io vorrei tirare un pochino fuori il blu del cielo non si riesce a tirar fuori più di tanto perché comunque è una situazione di contrasto veramente estremo e già sono contento della Canon EOS R perché ha una gamma dinamica superiore alla Canon EOS 6D che utilizzavo in precedenza per questo tipo di scatti questa qui è l'immagine della scena che si palesava di fronte ai nostri occhi quella mattinata in strada ora io vado a copiare le impostazioni su tutte queste immagini ok però non le ho scattate tutte con le stesse impostazioni a quanto pare quindi qui c'è qualcosina da rivedere ovviamente queste che sto facendo adesso non sono oggetto dello shooting di cui vi voglio andare a parlare è solo per farvi vedere la scena che ci siamo trovati di fronte io e il mio collega insomma è una vettura ridotta piuttosto male adesso andiamo oltre perché qui ho realizzato delle fotografie di una vetrina in particolare faccio riferimento al mio video precedente perché queste sono le famose foto della vetrina scattate a mano libera quindi senza treppiede e se volete scoprire che cosa significa scattare foto di questo tipo senza l'ausilio di un treppiede andatevi a recuperare il video che vi metto in card perché ne ho parlato in maniera approfondita e ora andiamo a vedere le foto che volevo veramente farvi vedere ovvero le immagini notturne della stessa scena di prima ora vado a eliminare i controlli delle aree bruciate così andiamo a esaminare solamente l'immagine ora come potete vedere la scena è esattamente quella di prima quindi abbiamo un'immagine di un'automobile completamente carbonizzata nelle strade della civilissima Milano dunque abbiamo già applicato i nostri preset quindi che cosa fare su quest'immagine? in realtà possiamo fare molto poco possiamo fare delle considerazioni e possiamo dirci per esempio che potremmo aprire un pochettino i toni scuri in maniera tale da rivelare delle parti dell'immagine che in questo momento non si vedono bene qui come potete vedere ci sono le latte di combustibile che erano state utilizzate dal simpatico avventore che ha pensato bene di dare alle fiamme questa vettura non si capisce bene per quale motivo magari era sua e voleva intascare l'assicurazione sono cose che si fanno parliamo un attimino delle impostazioni di scatto ovviamente stiamo scattando a ISO 100 ovviamente stiamo scattando a F10 quindi abbiamo chiuso abbastanza il diaframma in modo da avere tutto abbastanza a fuoco ovviamente abbiamo utilizzato un tempo consono quindi in questo caso 10 secondi di tempo di posa che ci permettono di realizzare queste kart rails che era un po' la cosa che io volevo realizzare io volevo queste scie a illuminare a rendere un pochettino più visibile la silhouette di questo scheletro di automobile questa qui era la foto di prova che ho fatto quindi è piena di errori e cose che non vanno bene andiamo avanti e vediamo che ne ho realizzata una seconda modificando livemente la composizione e ho spostato quei due affari che erano proprio bruttini da vedere quindi vado a fare la stessa cosa di prima vado ad aprire un pochettino le ombre qui abbiamo dei punti luce riflessi che sono le luci parassita che arrivano da questi faretti quindi qui vedete qui abbiamo un pochettino di puntini che sono fastidiosissimi da vedere però in questo caso non potevo farci proprio niente perché non posso eliminarli vado a pareggiare un pochettino le alte luci vediamo un po' come siamo messi ok qui abbiamo un pochino di perdita di dettaglio nelle ombre ma ci sta e un pochino di perdita di dettaglio nelle alte luci ma pure quello ci sta queste impostazioni a cui io aggiungerei un 6 di clarity e le aggiungerei anche un 18 e un 2 di vibrance e saturation sono i parametri che io sono abbastanza sereno a copiare su tutto quanto lo shooting quindi vado a copiare queste impostazioni su tutte quante le immagini così adesso man mano che le scorriamo le vediamo con già applicata tutta questa roba e non devo farlo tutte le volte perché io sono una persona molto pigra e quindi preferisco lavorare il meno possibile ora come potete vedere un'immagine come questa gioca sicuramente sullo straniamento perché città, ambiente urbano, normale, tranquillo una macchina ridotta in questo stato non è cosa che si vede tutti i giorni quindi si gioca molto su questo effetto straniamento e si gioca sulle pose lunghe e sul fatto che le luci delle auto vanno a staccare questo scheletro di automobile bruciata dallo sfondo quindi abbiamo un primo piano e uno sfondo ben definiti, ben delineati andiamo a vedere come ho lavorato per modificare fondamentalmente solo l'inquadratura in questo caso è successa una cosa che mi è piaciuta molto perché è passato un tram e quindi qui abbiamo il trail del tram che è molto bello perché c'è questo verde e questo giallo di questo tram che è passato che hanno sicuramente aggiunto qualcosa alla scena vedete attraverso i finestrini come separano l'automobile dallo sfondo e rendono assolutamente palese che sono due piani separati inoltre ci sono tutte queste bellissime stelline che sono date dal fatto che abbiamo usato un diaframma molto chiuso qui siamo a F11 e siamo passati a 13 secondi quindi ho anche modificato le impostazioni per la verità motivo per cui infatti abbiamo un pochettino di aree scure con perdita di dettagli più rispetto a prima e quindi io vado a cercare di recuperarle modificando lievissimamente l'esposizione in questo modo ora andiamo a vedere un prima e un dopo ora vedete che questa qui è come è stata scattata e questa qui è elaborata quindi c'è una bella differenza ora se io fossi bravo andrei ad applicare queste nuove impostazioni su tutte le foto di questa serie infatti lo faccio perché poi probabilmente ho ottenuto queste impostazioni andiamo a vedere allora questa qui è sicuramente una keeper è sicuramente una di quelle che terrò perché questa scia del tram mi piace molto subito dopo il passaggio del tram sono passate anche delle altre auto come potete vedere questa è la stessa posa perché io avevo la camera sul cavalletto e non si muoveva ho la stessa posa e quindi potrei anche provare a unire questi trail perché sono fondamentalmente la stessa posa con delle luci diverse quindi potrei anche provare ad aggiungere questi fari rossi a questa scia verde del tram potrei vedere cosa viene fuori andiamo a vedere che qui ho cambiato angolazione ho fatto anche una posa frontale questa qui ovviamente era di prova come sempre quella di cui ero più soddisfatto probabilmente era questa anche in questo caso come vedete la posa è esattamente la stessa quindi anche qui potrei andare a prendere delle zone diverse potrei prendere per esempio questi riflessi che sono arrivati dai fari delle auto e hanno illuminato meglio questa zona ma potrei anche tenere questa parte con meno luce perché qui c'è una macchia di luce che è quasi troppo quindi potrei tenere questa parte e potrei andare a prendere questi trail da questa seconda foto insomma si potrebbe fare un bel mischione anche qua ovviamente ci sono un po' di linee da raddrizzare che non sono perfettissimamente dritte anche se ci ho provato alla strada era molto irregolare quindi ho fatto quello che ho potuto qui sono tornato da questa parte perché volevo sperimentare qualcos'altro in questo caso le impostazioni sono sempre le stesse qui a quanto pare avevo beccato una congestione stradale un pochettino più pronunciata quindi c'erano più macchine che passavano il che ovviamente si traduce in più luci sullo sfondo che staccano di più la nostra vettura da quello che sono i palazzi e il cielo che ci interessano di meno qui è passata un'ambulanza quindi ho cominciato a scattare che l'ambulanza era qui e mi sono fatto tutta la scia dell'ambulanza che sicuramente dà qualcosina in più qui è passato un altro tram quindi nuovamente anche qui potrei andare a sommare queste due esposizioni che sono di fatto la stessa foto il cielo si è spostato come potete vedere quindi bisogna stare attenti però qui ho tre esposizioni che sono esattamente uguali quindi potrei andare a sommarle in post produzione per andare ad aggiungere luci alle luci e vedere che cosa viene fuori questo è un altro shooting che ho realizzato sempre nella stessa sessione ma è uno shooting di cui vi parlerò un'altra volta in un altro episodio perché secondo me merita un episodio a sé ma a questo punto vi chiedo di farmi sapere nei commenti se vi interessa queste ovviamente sono i miei scatti in bracketing per avere tutte le informazioni che mi servivano se questo tipo di shooting vi interessa io vi invito a farmelo sapere in un commento così che io possa deliberare di realizzare un video apposito su questo specifico argomento bene amici questo era quello che volevo condividere con voi oggi uno shooting un po' diverso uno shooting sicuramente particolare sono contento delle immagini che mi sono portato a casa si potevano sicuramente fare meglio si potevano anche sicuramente fare peggio avrei potuto organizzare qualcosa di più elaborato se avessi saputo che davano fuoco a un'auto in quella posizione invece non lo sapevo e quindi mi sono arrangiato con quello che avevo già dietro ovvero un trepiede semplicissimo e la mia fotocamera che era nella borsa perché ero riduce da un lavoro durante quella giornata quindi è andata così non credo che replicherò lo shooting perché insomma quella è pur sempre una zona di un crimine nel senso che è stata palesemente incendiata quell'auto c'erano anche delle latte di combustibile poco distante quindi è una zona su cui non credo che bazzicherò di frequente non vorrei mai che passasse una volante proprio mentre io sono lì a fare quel mestiere quindi quello che ho catturato è quello che mi tengo vi porto questa esperienza perché è una fotografia sicuramente un po' inusuale per una città come Milano è una cosa ovviamente a cui io sono già avvezzo questo tipo di scatti quindi nel momento in cui vedo una scena come quella mi metto lì so già la perfezione le impostazioni da utilizzare pum scatto faccio la mia composizione e me ne vado e ho belle che è finito quindi è una cosa che si fa in scioltezza se abbiamo l'abitudine a farla se non abbiamo l'abitudine a farla ci sono corsi di fotografia notturna che durano sei ore durante tutto l'arco della notte perché bisogna stare lì a farvi vedere tutti gli automatismi a cercare di capire come impostare come fare questo o quell'altro una volta che quelle cose sono acquisite ci metti letteralmente i 10 secondi di esposizione che ho utilizzato a fare la foto metti lì track accendi 10 secondi foto fatta è solo questione di abitudine se volete maturare questa abitudine non c'è modo migliore per farlo che cliccare il bottone iscriviti così continuando a fruire contenuti che io posto di frequente comincerete ad acquisire quell'abitudine a ragionare in un certo modo e quindi a vedere la scena per come si presenta a livello fotografico se lasciate anche un like a questo video il processo sarà ancora più veloce non chiedetemi come mai è così è scienza è sperimentato a questo punto amici io vi aspetto nei commenti fatemi sapere se vi piace la fotografia notturna fatemi sapere se avete fotografato scene simili magari aerei schiantati piuttosto che trattori impantanati con sopra la via Lattea cose bellissime che io a Milano non riesco purtroppo a fare perché qui la via Lattea non si vede fatemelo sapere nei commenti e io vi do appuntamento al prossimo video e io vi do appuntamento al prossimo video grazie a tutti